E' bastato un servizio sul nostro Tg relativo alla situazione di degrado di Bassano che già sono giunte segnalazioni per denunciare pessimi biglietti da visita per una città tradizionalmente evocata al turismo. Una forte denuncia parte da Luca Kenneth, già presidente dei commercianti bassanesi, che durante la sua carica si era battuto per un rinnovamento di Bassano e del suo centro storico in particolar modo, forte anche di un contributo che era arrivato dalla regione. Credo che per Pasqua forse la città un po' più decorosamente doveva presentarsi. Non l'ha fatto, che poi mi vengono a dire che non ci sono i soldi, secondo me non è vero, visto che con la mia presidenza di Confcommercio avevamo portato a casa un bando di 200 mila euro dalla regione. Non si sa che fine hanno fatto, probabilmente saranno in qualche cassetto o in qualche forziere dell'amministrazione comunale attuale. E il riferimento è alla mancanza di addobbi floreali in tempo dei giardini a Bassano, proprio davanti allo stesso palazzo municipale, dando un'immagine triste del centro, come sottolinea Kenneth. Come le vediamo noi le cose, le possono vedere qualsiasi altro, compresi gli amministratori e chi ci lavora e chi ci opera. Un pizzico di impegno in più da parte dell'amministrazione secondo me non guasterebbe. Non guasterebbe dunque un po' di impegno in un tempo in cui proprio il turismo diventa la chiave di volta per il rilancio dell'economia. Credo che i numeri ormai lo stanno facendo un po' da padrone. Stiamo capendo ormai sulla bocca di tutti che è il petrolio che abbiamo sotto i piedi e che quindi va valorizzato, va spinto perché questo effettivamente venga messo alla luce del sole. Solo che non riesco a capire, lo vediamo solo noi e gli altri non lo vedono. In realtà i tanti dettagli di cui ci siamo occupati anche ieri non sono passati così inosservati. E fresca di oggi l'interpellanza a firma dei tre consiglieri Monegato Marin Finco di impegno per Bassano in cui esortano l'amministrazione comunale ad abbellire la città, in particolar modo centro storico, municipio e loggetta in primis, a riattivare i cartelli luminosi di segnalazione e parcheggi, spenti, e a pulire le aree di indegrado per il bene concreto di una bella città come Bassano.